cari amici e cari amici di Total Photoshop bentornati io sono Emiliano e sono tornato a parlarvi di Adobe Muse Adobe Muse non è altro che uno è un software che fa parte dell'Adobe Creative Cloud dedicato alla creazione dei siti web è mirato soprattutto a per esempio ai grafici a chi proviene da InDesign Photoshop Illustrator perché perché non ci permette appunto di creare il nostro sito web senza l'utilizzo di codice in questo video corso inizieremo in primis a creare la nostra pagina mastro che non è altro che la pagina di default è quella dove appunto andremo ad inserire per esempio il nostro la nostra immagine in evidenza la nostra pagina l'immagine header che sta nella parte alta del nostro sito andremo a impostare la parte bassa che è il footer dove andremo ad inserire per esempio dei dati della nostra azienda andremo ad inserire nel capitolo successivo andremo ad inserire il menu e vedrete quanto è facile inserire un menu grazie all'utilizzo dei widget nei capitoli successivi andremo mano a mano ad inserire prima di tutto a vedere come come è semplice inserire del semplice testo copiandolo dal nostro text editor o dal nostro notepad vedremo come inserire delle immagini e salvarle nella nostra libreria nel caso volessimo riutilizzarle andremo ad inserire dei nuovi pulsanti a creare dei nuovi pulsanti ad inserire dei collegamenti a dei siti esterni a delle pagine esterne andremo a vedere come inserire la favicon nella nostra del nostro sito che non è altro che l'immagine che si trova accanto al nome del nostro sito per quanto riguarda nei tab della visualizzazione del nostro browser andremo a vedere quanto è semplice inserire degli effetti come delle ombre vedremo anche come è ancora più semplice inserire una gallery caricando solamente dell'immagine sempre tramite i widget che ci vengono forniti da da muse vedremo in uno degli ultimi capitoli anche come inserire dei video direttamente da youtube c'è anche la possibilità di inserire dei video direttamente da vimeo andremo per esempio a utilizzare oltre a facebook anche i widget dedicati a twitter e a google plus ed infine andremo a vedere nell'ultima pagina la pagina contatti come inserire e quanto è facile inserire sempre tramite i famosi widget un modulo di contatti infine andremo a pubblicare ovviamente vedremo i tre tipi di pubblicazione del nostro sito sul nostro spazio web bene a questo punto direi che possiamo iniziare il nostro videocorso impostando per primo il layout del nostro sito web